Darpetti non può dare la patente di cristianità e dire chi può o non può entrare in chiesa per partecipare alla Santa Messa. Parole forti arrivano da Roberto Zaffini che risponde alle critiche avanzate nei giorni scorsi dal direttore dell'ufficio pastorale per i problemi sociali della diocesi. Gabriele Darpetti aveva infatti criticato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Allianza Nazionale, rimproverandolo di aver strumentalizzato la vicenda dei profughi. Dunque io a Darpetti che conosco come persona molto tranquilla e mite rispondo che è giusto che mi critica la posizione politica sulla gestione degli extracomunitari come abbiamo vissuto qui nella nostra città perché è una posizione politica e quindi mi sta bene. Però che lui si arroghi il diritto di dire che chi può e chi non può andare alla Messa a Pasqua questo è un altro discorso che io non accetto perché io sono cattolico come lui. Probabilmente su alcuni temi non la pensiamo nella stessa maniera però io non mi sento escluso dalla Chiesa perché lui pensa in un certo modo. Possibile che ancora non ci si accorge, ha proseguito Zaffini, che in questo tempo da fame si sta togliendo il pane ai nostri cristiani poveri per darlo agli extracomunitari musulmani. A me, conclude, non sembra cristianamente giusto. È molto importante aprirsi fra di noi per avere anche un confronto anche duro su questi temi però lui non può fare il buttafuori delle chiese e dire chi entra o non entra perché effettivamente nemmeno il Papa si oserebbe tanto fare.